E' pari a 41 milioni e 700 mila euro la riduzione del fondo di finanziamento ordinario a carico di otto università di Marche, Abruzzo e Umbria, a cui si aggiunge un aumento del 4,8% del costo del personale docente per adeguamento Istat, per un totale di 50 milioni di euro di risorse in meno per la gestione degli Atenei. Preoccupati per la sopravvivenza delle università, i rettori chiamati in causa chiedono l'intervento immediato del governo per ripristinare i fondi necessari per evitare il collasso del sistema universitario pubblico che comprometterebbe il futuro dell'istruzione superiore della ricerca in Italia. A parlarne al Tg8 è il professor Liborio Stuppia, rettore dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara. Per la prima volta dopo dieci anni finanziamenti dell'università si riducono anziché aumentare. Per il nostro Ateneo da solo sono circa 7 milioni di euro. Considerando che l'università poi investe sul territorio vuol dire una ricaduta negativa su tutto il territorio. In altre parole, quei soldi non sono soldi che l'università si tiene, sono soldi con cui fa contratti per i giovani, con cui fa acquisti sul territorio, con cui mobilita l'economia. Quindi il vulnus non è solo per la struttura dell'università ma per tutto il territorio. Questi tagli sono già decisi ma c'è la possibilità di tornare indietro? Ci sono possibilità di aggiustamento, resta il fatto che per la prima volta torniamo indietro, cioè normalmente i finanziamenti aumentavano perché aumenta il costo della vita. Tornare indietro vuol dire disinvestire sul sistema universitario, ma questo è grave perché vuol dire disinvestire in cultura e il nostro paese questo non se lo può permettere assolutamente. Siete già fatti un'idea magari di cosa eventualmente dovrete andare a tagliare? Fortunatamente noi in D'Annunzio abbiamo ancora margini per riuscire a lavorare tranquillamente, però è stato calcolato che due terzi delle università italiane andranno in default nel giro di tre anni. Noi ovviamente dovremmo fare risparmio, però ripeto non potremo fare più delle spese che sarebbero state spese a beneficio del territorio. Una situazione come questa mette in competizione le università reali come la D'Annunzio e magari quelle online che hanno sicuramente meno costi di un'università in presenza. Questa è la chiave di tutto il problema. Se si decide che la formazione culturale italiana nei prossimi anni sia fatta dalle università telematiche solo perché queste non costano nulla allo Stato, si sta facendo un'azione molto pericolosa perché il livello di formazione garantito da quelle università non è quello di un'università classica, soprattutto perché viene a mancare il momento importante di socializzazione dei ragazzi che devono vivere queste esperienze insieme e non rimanere chiusi nella loro stanza dietro un monitor come già è successo durante il Covid. Quindi ci si prende la responsabilità di affidare la formazione delle future generazioni di professionisti italiani soltanto a una didattica a distanza sterile e non socializzante. La ministra Bernini l'avete già ascoltata? È da luglio che in realtà abbiamo delle interlocuzioni con una ministra. Dice che ci sono stati molti fondi per l'università col PNRR, però attenzione perché i fondi del PNRR intanto sono dei fondi effimeri perché verrà a finire il PNRR. E poi hanno anche un po' drogato il sistema, proprio perché visto che finiranno hanno dato l'idea che ci fosse molto investimento che però finirà di botto. Quindi molte università avranno il problema tra l'altro di dover poi sistemare i precari che sono stati reclutati col PNRR e che non si possono rimandare a casa dopo tre anni di esperienza all'università. Questi costeranno molto a università che avranno avuto dei tagli forti e che avranno difficoltà a farsi carico del loro stipendio.